Weekend intenso per le squadre ischitane di calcio a 5, basket e pallavolo. Nel calcio a 5, serie C1, per la Virtus Libera Forio, l'ottava giornata, Siria chiude in queste due parole. Soddisfazione per la grande prestazione giocata in casa del Casa Giove Futsal, seconda in classifica assieme agli isolani, fino a sabato. Rammarico perché nonostante Capitan Coppa e compagni abbiano condotto il gioco, mostrato personalità e creato tanto, tornano a casa a mani vuote. La partita però conferma ancora una volta le potenzialità della Virtus Libera Forio, che anche solo con un pizzico in più di fortuna, ben 5 i lenni colpiti dalla squadra di Mister Monaco, avrebbe centrato l'ennesimo risultato utile di una stagione molto positiva. Finisce 5-4 per il Casa Giove, che si porta al secondo posto in classifica per i Foriani a segno con una doppietta Mainolfi e Melise. In serie C2 campionato fermo, mentre in serie D sorridono quasi tutte le ischitane per la Fenix Ischia, prima partita sull'isola dopo il pareggio della prima giornata in trasferta, subito all'ultimo secondo, a cui ha fatto seguito un turno di riposo. Al palacasale partita al Cardio Palma contro il Cales. La squadra casertana va avanti per ben tre volte, ma viene sempre raggiunta dalla Fenix, che trova il sorpasso sul 4-3 nella seconda frazione di gioco. Un tiro libero molto dubbio, assegnato dall'arbitro nei minuti finali, riporta la partita sul 4-4. Poi la squadra di Mister Antelmi trova il gol decisivo del 5-4 con Maione, che prima sbaglia il tiro libero e poi inventa un pallonetto spettacolare che fa esplodere il palazzetto. Prima di lui le doppiette del brasiliano Cantieri e di un monumentale Alaia. Per la Fenix si tratta della prima vittoria in campionato. Nello stesso girone, prima vittoria, i stessi punti in classifica, seppur con una partita in più, anche per il Forio, che vince a capo a 3-2. Nel girone C, Barano e Depomeo, invece, si sfidano nel derby disputato sotto la pioggia battente sul campetto di Via Piano. Partita senza storia e vittoria netta del Barano, grazie alla doppietta di Manieri e alle reti del brasiliano Vierà e di Andrea Iacono. Nel prossimo weekend il campionato si fermerà per disputare il primo turno di Coppa. La Fenix ospiterà al palacasale La Nocerina, riposa nel girone a 3-2 Pomeo. Sarà invece derby con gara di andata e ritorno tra Forio e Barano e dunque un sabato tutto da vivere al palacasale di Forio. Nel basket, grande vittoria in Serie B per il Forio, che batte Pozzuoli nel derby campano. 93-79 il punteggio finale, nonostante le tante assenze causa Covid in casa Forio, a cominciare da quella di coach Marinelli. Una gara fisica, combattuta avvincente da una parte e dall'altra del campo. Grande equilibrio nel primo tempo e nonostante l'espulsione di Milosevic per doppio tecnico, i biancorossi restano a meno due dalla compagine putiolana. Nel terzo quarto Pozzuoli prova a scappare sul più nove, Forio però rientra in partita. Di nuovo gara punto a punto e solo nel finale del quarto periodo gli isolani prendono il largo, chiudendo sul definitivo 93-79. Con questa vittoria Forio resta aggrappata al gruppo di testa in una classifica davvero molto corta. Dietro la capolista in solitaria Bisceglie, unica imbattuta a 10 punti, ci sono Torre Nova e proprio Pozzuoli a 8 punti. Poi 5 squadre a 6 punti, tra cui il Forio. Il campionato è ancora lunghissimo ma l'inizio di stagione resta assolutamente positivo. In Serie C-Silver, altra delusione per la cessistica Ischia, sconfitta anche in trasferta dal Cagliazzo per 80-69. Una sconfitta inaspettata e pesante per la squadra allenata da coach Russelli. Infine nel volley non riesce a sbloccarsi l'ischia pallavolo che insacca un'altra sconfitta in Serie B per 3-0 nello scontro diretto per la salvezza contro il volley meta. L'obiettivo salvezza diventa, partita dopo partita, sempre più difficile da raggiungere.